ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video prima di iniziare a introdurre questo prodotto che ho in mano voglio farvi i miei più sinceri auguri di buon anno sperando che questo nuovo anno vi porti cose molto belle per tutti noi compresa anche io stessa comunque iniziamo subito a parlare di un nuovo prodotto che è riuscito da diversi mesi soltanto che io non ho mai avuto l'occasione di provarlo in quanto io ho una ricostruzione sopra già da settembre e quindi non ho avuto modo di provarlo bene però colgo l'occasione di farvi vedere per la prima volta questo prodotto ragazze è il velvet smooth della shoal sapete che nel 2015 insomma shoal ha introdotto due prodotti elettronici per manicure pedicure io intanto ho il prodotto per la manicure però come al solito siccome ho fatto diversi lavori in casa ho aiutato parecchio ho smaltito di diverse cose io la scatola non ce l'ho più purtroppo però se modo comunque di guardare l'antietrima del video io ho inserito anche la confezione come si presenta iniziamo comunque a parlare in maniera più tecnica di questo prodotto allora per prima cosa abbiamo l'anima serve per azionare il kit elettronico si serve di due velocità non so se riuscite a vederlo la prima ovvero la tacchetta numero uno è la prima la velocità più bassa le due tacchette indicano la velocità più alta soltanto che a livello di rumore non c'è grande differenza e poi all'interno il kit elettronico funziona attraverso la pila quindi non c'è neanche più il grande disguido di collegarla ad una presa elettrica in più a questa in questa lima elettronica vengono date in dotazione le tre lime ovvero la prima lima è la parte più ruvida ovvero la 1 in cui senso se riuscite a vederla però questa è la 1 la lima almeno rubida è la 2 la lima la parte più morbida è la lima numero 3 i numeri ragazze indicano comunque l'ordine di limatura la prima testina ovvero la lima più ruvida serve ad accorciare o a dare la la forma lunga la lima numero 2 ovvero questa qua serve per opacizzare leggermente il letto ungueale mentre la lima numero 3 serve per lucidare vediamo come funzionano allora per prima cosa apro le testine che tra l'altro le testine sono vendibili anche separatamente nel caso si dovessero consumare vediamo come si applicano per prima cosa io prendo l'anima della lima elettronica e inserisco la prima testina la testina si deve inserire con la linguetta verso il basso quando sentite uno scatto vuol dire che la lima è già inserita e dopo che vado ad azionare scegliendo una velocità desiderata non so se si riesce a capire allora all'inizio acceso la mia lima elettronica sul primo tastino e se notate indica una velocità più bassa mentre la secondo il secondo tastino indica la velocità più alta vi dico già da subito ragazze che il cambio di velocità per me è indifferente in quanto non ho sentito una grande differenza cambio anche perché se noi aumentiamo di più la velocità si rischia poi di danneggiare seriamente le unghie per eliminarlo basta solo estrarre delicatamente la testina poi le ultime due testine ovvero sia la testina meno ruvida e sia la testina più liscia serve per levigare e lucidare il letto ungueale però vi dico già da subito una cosa ragazze ora voglio darvi una mia prima impressione riguardante questo questa lima elettronica è utile soprattutto alla lima manuale in quanto siete delle ragazze che effettuate ricostruzione unghie tutti i giorni oppure usate molto spesso la lima sicuramente quando effettuate comunque un un lavoro manuale che va si di sicuro a sforzare i polsi invece questo prodotto è stato studiato apposta per evitare proprio in quei polsi quando lavora di sicuro con una lima manuale classica qualsiasi però c'è una cosa di sicuro che ho sentito anche di ad esempio se avete notato prima quando ho azionato la lima elettronica avete notato sia la testina che il motore fanno questo movimento qua per chi ha le unghie fragili non va affatto bene in quanto rischia a lungo andare di dare l'unghia e di favorirla sempre agli sfaldamenti anche se per esempio l'imo sempre in una sola direzione utilizzato il kit elettronico di sicuro non cambia niente in quanto il movimento sarà sempre avanti e indietro ultimamente ho sentito diverse recensioni che sono più negative che positive io di sicuro non l'ho provato vi farò sapere più avanti con una review soltanto che io avendo già sopra una ricostruzione in gel è normale che utilizzo prodotti più diversi rispetto a nicourt classica che tra l'altro vi farò poi un articolo a parte o un tutorial poi vedremo allora il prezzo di questo prodotto non vi so dire penso che sia giri di più sulle 29 30 euro però in realtà questo prodotto qui è stato per me un regalo non è proprio un regalo di natale però è stato proprio un regalo molto affettivo per me allora ragazze io vi ho detto tutto per quanto riguarda il velvet smooth spero soltanto che questo spacchettamento vi sia comunque piaciuto e sicuramente questo prodotto presenterà a un vantaggio enorme che non va a sforzare la mano colso soltanto che questo prodotto effettivamente presenta diversi svantaggi però posso comunque dire che per me come alternativa è sicuramente valida per chi ha pochissimo tempo allora ragazze io spero che questo unboxing vi sia comunque piaciuto un saluto ragazze e vi mando un bacione ciao 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 Grazie a tutti.